Salve ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di trucchi segreti in The Legend of Zelda Breath of the Wild Come sempre vi manda un saluto il vostro amato Link e Patrinox Nell'episodio di oggi vi voglio mostrare come trovare la maglietta astice Quindi per iniziare vi voglio ricordare che la maglietta astice è solamente ottenibile avendo il DLC di Breath of the Wild E per iniziare la nostra missione dovremo dirigerci a leggere il libro che si trova in questa zona qua Qua come potete vedere Quindi andiamo Salta Link No salta Scendiamo Ok E leggiamo questo libro qua Ok dopo che l'abbiamo letto ci darà le nostre indicazioni per cercare la nostra maglietta Perfetto Da qui ci teletrasporteremo Più o meno dall'indicazione che ci ha dato Ci teletrasporteremo Alla torre del lago che è quella che si trova qua Come potete vedere qua Ok ci teletrasportiamo Andiamo Ok siamo arrivati Da qua dalla torre Noi ci dobbiamo dirigere In questa parte qua Dove ho quello scrigno Ed è lì che ovviamente troveremo La nostra maglietta Quindi ci buttiamo E si trova precisamente qua sotto Dai andiamo Ci stiamo arrivando Eccoci qua E adesso Attiviamo la nostra abilità Che è quella che ci permette di congelare Ok Ci facciamo un cammino Ne mettiamo un altro E neanche ci sono Ne farei Ne farò un altro qua Ok adesso prendiamo la nostra calamita L'abilità E prendiamo lo spingio E prendiamo lo spingio che si trova Là sotto Vieni qua Ok Lasciamolo lì Apriamolo E come possiamo vedere Al suo interno Abbiamo trovato La maglietta Astice Perfetto Come vedete la missione È completata Ok Adesso Eccola qua La nostra maglietta Astice Come possiamo vedere Ha disegnata Un astice Che è proprio Quella è la maglietta Se molti di voi Si ricorderanno È la maglietta Che indossava Link In Wind Waker Anche questa Molto carina Come maglietta E niente Con questo ragazzi Spero che il video Anche questo Vi sia servito E vi sia piaciuto Quindi lasciate Come sempre Un bel like Un commento E se non mi siete iscritti Al canale Vi invito ad iscrivervi Mi manda Una arrivederci Il vostro amato Link Patrinox E ci vediamo Al prossimo video Adios Al prossimo video Al prossimo video Al prossimo video